Oggi vi porteremo dietro le quinte della creazione del nostro diffusore acustico a 360 gradi in cemento, il Garvan SN120. Un pezzo d'arte che combina la raffinatezza del cemento con la modernità del LED. Il cemento è un materiale solido e resistente che non solo conferisce al Garvan SN120 la sua estetica unica e la durevolezza, ma contribuisce anche alla rigidità del cabinet. Ma il diffusore Garvan SN120 in cemento non è solo una questione di estetica. La tecnologia audio a 360 gradi attraverso l'autoparlante e la lente acustica garantisce un suono ricco e avvolgente, mentre il nostro sistema di illuminazione LED aggiunge un tocco di eleganza. L'illuminazione LED viene integrata con cura per garantire non solo una luce di qualità come segnapasso, ma anche una perfetta fusione con il design complessivo del diffusore. E così, dopo questa fase precisa e meticolosa, il Garvan SN120 prende vita e peso, precisamente 28 kg. Versatile e robusto, il Garvan SN120 si adatta a qualsiasi scenario, ideale per i vostri momenti di relax in piscina, per le cene all'aperto, sul terrazzo o per gli eventi all'aperto nei parchi. In ogni contesto è sempre pronto a catturare l'attenzione con il suo suono cristallino e la sua luce suggestiva. Che sia utilizzato per un evento speciale o come pezzo di design in un ambiente elegante, il Garvan SN120 è sempre pronto a illuminare la scena con il suo suono e la sua luce. Dalla produzione Garvan è tutto, se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale. Grazie, a presto!